Si accomodi al banco, arrivo subito. Ok, senta, chiunque lei sia, l'avverto, non le conviene farmi arrabbiare, ok? Oh, porca trota, che puzza! La trota è finita, solo aringa e bottatrice. Oh, uniforme, sudore freddo, sei impaurito e tremi come una foglia. Allora, non dirmi niente, voglio indovinare. Tu sei l'ultimo portalettere e il traghettatore ti ha fatto suonare la campana di battaglia. Campana di battaglia? Che razza di città una campana di battaglia? Possiamo mica aprire la finestra? Non si respira... Benvenuto a Smenesburg, patria delle migliori faide del mondo. Faide? Rancori, battibecchi, i cram contro le limbo... Allora... Sei qui per comprare qualcosa o eri solo in vena di chiacchiere? Aspetta, non è una scuola, non ci vorrebbero bambini e una maestra? Oh, sì, oh, grazie, grazie, ecco che cosa mi sono dimenticata, i bambini, grazie! Sei tu la maestra? Ok, adesso ti spiego, io vendo il pesce e la persona dall'altra parte del banco, ovvero tu, tu contro il pesce... Santa Polenta, sei tu? Che ti è successo? Mi è successo che... Mi è uscita male... Ho vinto un concorso in un posto dove la gente non manda i figli a scuola, a mischiarsi con la progenia del loro nemico! Oh no, non sia mai! Quindi ora sono ridotta a fare questo, per fare un po' di soldi e ricominciare da capo! Molto, molto, molto da qui! Ora, vuoi comprare qualcosa? Sulla ringa c'è lo sconto! Eccoti qua, mi chiedevo che fine avessi fatto! Buongiorno, mi salva! Muggens! Andiamo, socio! Ho lasciato il meglio per ultimo! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada